Allora palindromi, oggi parliamo di un problema che può colpire chi sta affrontando lo studio della scrittura nei primi diciamo mesi se vi state impegnando, nei primi anni se non vi impegnate per niente, ma francamente siete i miei corsisti, anche soltanto base, spero che vi state impegnando, che è quello del, oh all'inizio io imparo singole cose ma mi sembra che non sto imparando niente, cioè la singola cosa magari è chiara ma non riesco a dargli un contesto, non riesco a comprendere per davvero. Signori questo è assolutamente normale, perché? Perché senza la visione di insieme, quindi in mancanza della visione di insieme, voi non riuscite a collocare i tasselli. Magari dite io so le singole regole ma non so come scrivere un testo, perché non si sono collegate tra di loro. Ora la visione di insieme è una cosa veramente 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 importante perché? Perché ogni cosa ha valore nel contesto, se vi manca il contesto della teoria quella cosa naturalmente ha meno valore, quella cosa è meno comprensibile, ok? Quindi nel momento in cui voi studiate mettendo un pezzettino, un altro pezzettino, un altro pezzettino, prima o poi vi troverete ad avere tutta la visione di insieme e a questo punto tutto diventerà più chiaro, cioè dovete semplicemente all'inizio tenere duro. Quindi vi fate il mio corso base, ad esempio, ecco pensateci, quando fate il mio corso base, al primo giro sapete quanto ne avete capito? Se siete arroganti direte ah l'ho capito bene, perfetto, hai già finito lì, hai già perso. Se invece siete persone che sanno come si studia, perfino se avete preso bene gli appunti, con le vostre riflessioni, collegamenti riusciate a fare eccetera, al primo giro se ne avete capito un quinto è grasso che cola. Io ho studenti che hanno fatti corsi avanzati che al sesto settimo giro del corso base mi dicono che imparano ancora cose, ok? Perché? Perché ogni volta che tu leggi qualcosa lo puoi capire soltanto nel contesto delle tue conoscenze pergresse, ok? Quindi vuol dire che prima di sapere A non puoi valutare un B in relazione ad A, quindi tu scopri A, poi fai B. Questo B lo puoi valutare in relazione ad A, ma non in relazione a C. Quando arrivi a C tu stai valutando C, non stai valutando né B né A, ma quando ristudierai da capo tu arrivi ad A e dici A, ma si collegava B e C così A e ti segni gli appunti. Poi arrivi a B, A ma B si collegava a C e fai gli appunti. E immaginate che questo va avanti per tre alfabeti completi buoni di interconnessioni, soltanto il mio corso base, chiaro signori? Quindi è normale che la gente debba solo per capire il mio corso base aver fatto i corsi avanzati, per capirlo davvero, perché devono avere la visione d'insieme che richiede i corsi avanzati necessariamente, signori. E se no vi manca una fetta, ok? Ora col corso base si può ottenere tanto, però la visione d'insieme francamente non la potete ottenere tutta con i corsi base, ok? Per quanto siano eccellenti, per quanto siano meglio dei contenuti che si trovano a pagamento da altri formatori, insomma però è così. Tanto ha stesse dichiarazioni di quei formatori, come uno studente, Livio Gambarini, che mi diceva sempre che il mio corso base è una cosa incredibile e che dovrei venderla, tant'è che per esempio per il suo primo percorso scrittore speciale mi chiese di inserire le lezioni tecniche nel mio corso base, all'interno del suo percorso e l'integrò. Faccia vedere esempi tratti al mio corso base e cose così, lo consigliava, signore, è normale, ok? Quindi signori, la questione è che voi dovete vedere come ogni dettaglio si collega con gli altri, perché funziona esattamente così. E quando avrete la visione d'insieme avete tutti i dettagli che possono collegarsi con tutti gli altri. Quindi ogni giro, poi ci arriva l'altro problema, ogni giro di studio, voi noterete qualcosa di nuovo. Perché? Perché la prima volta, pensateci, quando siete arrivati a collegamento 714, quindi avete fatto l'ennesimo collegamento di teoria, la volta dopo voi ristudierete avendo collegamento 714 in mente e gli direte ah ma questa cosa allora no, perché invece ma io come ho fatto a non notare questa cosa, questo dettaglio? È un pezzo che mi chiedo come si fa questa cosa qui, come si si ragiona in questo caso ed era scritto addirittura nel corso base. Perché? Perché prima non eri pronto ad accorgertene. Altre volte invece semplicemente non possiamo imparare tutto ai primi giri perché il nostro cervello è tot cose puoi imparare per volta. Quindi se ci sono 700 concetti da imparare e tu ne puoi imparare ogni volta 50, vuol dire che dovrei fare 14 giri. Ok? Poi non sono così tanti giri da fare signore a un certo punto. Se prendete bene gli appunti io mi aspetto che per il quinto giro abbiate scoperto tutto quello che c'è da scoprire. Se poi noterete nuove connessioni, vabbè, e uno può trovare nuove connessioni anche leggendo lo stesso libro in eterno. C'è gente che ha letto per tutta la vita, mi ricordo Bob Proctor forse diceva che leggeva un capitolo, qualche pagina ogni giorno di pensi e arricchisci te stesso di Napoleon Hill. L'ha letto per tutta la vita, immagina per anni, per anni. E certo se tu continui a leggere qualcosa troverai dei significati che neanche c'erano davvero dentro. Sono significati che è creato a mente, ispirato da queste cose. Quindi non è che vi sto dicendo che dovrete vivere leggendo il mio corso base o studiando il corso avanzato. Però, signori, primi mesi, primi giri, veramente imparerete una valanga di cose facendo altri giri perché avrete la visione di insieme. E questo è un vantaggio veramente colossale per imparare. Però dovete avere accesso ai corsi per farlo, ok signori? E soprattutto non avere paura di ripetere. Perché non ripetere, non tornare sulle cose studiate, è esattamente quello che impedisce di imparare. Pensai di poter imparare al primo colpo tutto giusto come se voi foste magici. Non siete i superman dell'apprendimento, signori, dovete studiare giusto. Non passivamente, non le giochiando e basta. Leggere attentamente, prendere appunti, ragionare. Ma non basta un giro solo, ok? Non state facendo gli esami per l'università che siete lì che c'è. Queste sono cose che state studiando per la vita. Potete dedicargli il tempo necessario, che non è il tempo di un singolo esame. Immaginatelo, è il tempo più magari, di un intero percorso di laurea, che poi vi dura per tutta la vita, ok? Poi non è esattamente così. Come vi ho detto in passato, parecchi miei studenti stanno diventando veramente rapidi a imparare a scrivere. Io mi trovo a selezionare persone con il potenziale per diventare autori pubblicati in Vaporteppa o in altre collane, in altre case editrici, signori, eh. Io non freno nessuno, anzi, gli stimolo a scrivere quello che vogliono, come vogliono e gli supporto comunque anche se vogliono andare altrove, se sono bravi. E, ad esempio, perché magari hanno fatto un thriller, uno storico, un romance, tutte cose che limitandosi a fantasy e fantascienza non possiamo pubblicare, ok? E questi miei studenti arrivano a questo livello di bravura magari in 3-4 mesi da quando sono partiti con lo studio del corso avanzato. Quindi non vi sto dicendoci impiegate 3 anni, 5 anni. Potete impiegarci molto meno di un anno se vi impegnate e fate le cose bene, talto basta seguire letteralmente le istruzioni date nei corsi, eh, col metodo TRAVE, eccetera. Però per farlo dovete veramente sapere come si studia. E ci sono diversi modi su come studiare la scrittura. Per esempio, voi potete dire, io ho piacere a studiare basandomi sulle opere ben fatte perché voglio apprendere per imitazione, ovvero a furia di immergermi in testi scritti in un certo modo, certi modi di fare dialoghi, di presentare i dettagli, come in un modo naturale assorbirò queste cose e imparerò. Perfetto. Ovviamente con qualche piccola modifica, perché non è soltanto questo, ecco, è il modo in cui vi insegno l'apprendimento con il metodo TRAVE che viene fornito con il mio corso avanzato di scrittura. oppure potete dire, io voglio imparare tramite un apprendistato, voglio vedere tu che valuti testi, non scritti in modo perfetto, ma testi problematici, le live, le live private, esercitazioni private, ok? E voglio seguirti mentre lo fai. Voglio vedere tutte le esercitazioni, voglio poter star lì, magari stoppo e ci penso meglio io, oppure gioco contro il tempo per vedere se noto tutte le cose che noti tu prima che le dici, eccetera, eccetera, e fai un vero e proprio apprendistato con me, dove tu decidi quando si fa la lezione, apri il video dal tuo mega archivio gigante di esercitazioni con oltre 211 ore di esercitazioni fatte, sono mi sembra 105 passe esercitazioni, non mi ricordo manco più, signori. Insomma, le fai quando vuoi, comodamente, e poi quando facciamo quelle nuove e arriva l'avviso del questo lunedì facciamo esercitazione privata, bla bla bla, facciamo un paio al mese, tu ti puoi fare anche quelle nuove, che poi ti fiscano nell'archivio e lì ti rimangono. Chi non c'ha l'archivio, corsisti avanzati in ormai, ne hanno tre, a rotazione, le ultime tre, ok? Quindi quando arriva l'ultima, sparisce la terza più vecchia e arriva quella nuova, ok signori? Perfetto. E a questo punto potreste dire, sì vabbè è tutto molto mello, ci stai dicendo che i tuoi studenti fanno questo, fanno quello, ma chi sono i tuoi studenti? I tuoi studenti in che modo dovrebbero dovrebbero dirci, dirci che è una buona scelta studiare con te, ora al di là che se andate nella pagina di venti, al link sotto il video, c'è stata una pagina, è piena di testimonianze scritte, all'epoca erano commenti, email, cose varie, ma abbiamo anche i video, ora non è completamente aggiornata, ma minchia c'è un muro di video di persone vere con i nomi e le facce che vi parlano della loro esperienza, eh? A parte questo, dite no ma a me non interessano quelli, quelli magari poi non pubblicano niente, chi lo sa, a me interessano quelli che poi hanno pubblicato, qualsiasi cosa, perfetto, proprio qualsiasi cosa e ti prendo per buono. I miei studenti, vi ricordo, i miei percorsi avanzati sono il segreto dietro la pubblicazione, il successo, ma soprattutto, soprattutto il gradimento del pubblico di tanti miei studenti che hanno autopubblicato, pubblicato con piccoli editori, non so, Acheron Books, Mosca Bianca, Zona 42, Delos e altri, ok signori, oppure che hanno pubblicato anche con editori un pelino più grandini, eh? Tipo, non so, Garzanti. Mia corsista Stefania Spano ha pubblicato con Garzanti un'opera che aveva vinto un concorso di Mauri Spagnola e inizialmente quell'opera è stata pubblicata con una piccola casa editrice interna, come vincitrice del concorso, ma lei, con la qualità della scrittura che ha tutto dal corso avanzato, ha talmente impressionato, in questo caso, la persona giusta, che quella gli ha detto tu sei un vero talento della scrittura, non mi interessano solo le tue opere future, ma mi interessa anche recuperare questa. E quell'opera addirittura ha praticamente lanciato una collana nuova dentro Garzanti, o se mi ricordo, se mi ricordo è ben andata così, non abbiamo parlato all'epoca dell'uscita, ma mi sembra fosse andata esattamente così. Mi ricordo che all'epoca stavamo lavorando al romanzo, un romanzo in cui non vi posso dire niente, è andato in sospensione, doveva essere pubblicato con potenzialmente Acheron Books due anni fa, l'abbiamo sospeso, questo romanzo andrà altrove. E signori, andrà altrove, non vi posso dire niente, ma andrà altrove, tra due anni, quando sarà, immagino due anni, non penso un anno, tra due anni, quando sarà altrove, non è che non ve l'avevo detto, come nel 2021, autunno 2021, vi dicevo a un autore che ho formato, che vedrete pubblicherà una serie di romanzi, una trilogia fantasy con Mondadori, e alcuni dicevano, ah sì certo che cazzata, sta dicendo stronzate per 20 corsi, e noi intanto stavamo lì, lavoravamo, lavoravamo due anni dopo, autunno 2023, esce il primo romanzo, poi il secondo, marzo scorso è uscito il terzo romanzo, e ci abbiamo lavorato personalmente, ok? Ho fatto la revisione con l'autore, ora un solo giro di revisione, però comunque l'ho fatta con l'autore, ok? Tutte cose spiegate nei live, abbiamo fatto live con Butini, abbiamo parlato di come abbiamo lavorato e cose così. Signore, è tutto vero, eh? Io non posso farvi i dettagli specifici di cose che sono per o nome dell'editore, o nome della persona, o altre combinazioni sono cose che non si possono divulgare, però l'avete visto, quando vi dicevo tra due anni succede questo, perché quelli sono i tempi editoriali, poi è veramente successo, ok signori? Quindi tra due anni ci rivediamo e vedrete il romanzo che vi sto dicendo, o poi magari invece tra un anno e mezzo, che ne so, o tra un anno, io questo non lo so, attualmente. Quindi signori, i miei studenti avete visto anni i risultati che hanno avuto, scegliete voi se vi bastano questi risultati, eccetera, eccetera, però come sapete, studiando questi corsi avanzati è possibile arrivare a questi risultati qua, se volete, di scrittura, di mentalità per pubblicare, che lo può anche dire, ma quel romanzo lì che è segnalato non è in perfetta scrittura immersiva, che poi anche lì sta da fare più realisti del re, io ne ho citate di valanghe, di romanzi ben scritti che è un anno in perfetta scrittura immersiva, ma sono romanzi che sono felice di aver letto e che consiglio regolarmente, eh, un sacco di volte, come C'è la Brava Ragazza, vedo il suo caso del recupero, eccetera, 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 ok? Ecco. Però a parte quelli potete dire, pensateci alla mentalità, anche la mente è corretta, signori, fa brodo, eh, oh, se volete arrivare a pubblicare vi serve il cervello? Vi serve sapere come funziona l'editoria? E io fornisco il labirinto dell'editoria, che è una delle due sezioni del risveglio dello scrittore, che insegna esattamente come funziona l'editoria i falsi miti, le cazzate che vi raccontano che possono avere delle basi vere, ma non nel modo che vi raccontano per farvi terrorismo, ok? Quando vi raccontano le cazzate sull'esterofilia dell'esterofilia italiana o altre cose, signori, ci sono modi per smentire quelle cose, soprattutto andare a vedere cosa significano davvero e come non c'è veramente un'esterofilia, ma meccanismi molto più profondi e molto più interessanti che riguardano il mercato e che in soldoni vuol dire che non dovete cagarvi in mano, potete pubblicare e vendere anche da italiani e soprattutto gli editori italiani hanno piacere di risparmiare enormi vagonate di soldi per i diritti, enormi vagonate di soldi per le traduzioni e pubblicare italiani a quando possono. Non è che sono masochisti dementi, ok signori? Perfetto. E voi potete accedere a tutti questi corsi avanzati, il risveglio dello scrittore, quella parte sulle passioni, coi miti sull'editoria, insomma tutto quello che serve per raggiungere il livello che desiderate e soprattutto per avere quella visione di insieme senza la quale non si può studiare al meglio, potete accedervi adesso perché col 5 maggio che è stato il mio compleanno e fino a mercoledì 15 maggio alle 23.59, quindi tutta la giornata di mercoledì 15 maggio, avrete la possibilità di accedere ai miei percorsi formativi a un prezzo veramente, veramente bassa, abbiamo fatto l'offerta più bassa che si poteva e con una chiave di apprendimento diversa perché come detto si può studiare in un modo e studiare in un altro, puoi studiare le opere buone col metro trave ma puoi anche studiare facendo una sorta di apprendistato con me, vuoi fare l'apprendistato? Abbiamo l'offerta apprendistato, ok? Puoi avere prima offerta, scrittura pura, corso avanzato di scrittura, corso avanzato di scrittura da solo dovrebbe venire almeno 1000 euro, ok? Ci sono dentro decine di ore di materiale, 41 lezioni, decine di ore di materiale, esercitazioni, cose, sacco di roba, guardate la pagina di vendita, vi lascio un link, la pagina è lunga e piena di terrori perché avevo messo ogni singolo dettaglio, ogni singola cosa che dovete sapere di quei corsi per davvero, ok? Più i bonus, quindi sarebbero 1000 euro di roba, più gruppo segreto dei corsisti, metodo trave, risveglio dello scrittore, esercitazioni, eh, il buco delle anteprime, che sono tipo oltre 20 ore mi sembra, non mi ricordo più di tutto scritto, di robe tratte da altri corsi, da stati agenti blocco, dagli archivi di mentalità, un sacco di roba signori, un sacco di roba, è lì in omaggio, eh? Quelle sono centinaia di euro di materiale in omaggio, ok? Quindi vi dico 1000 euro di corso avanzato di scrittura, ma tutto il contorno probabilmente ne fa 3000, eh? Adesso non so quanto faccio, credo faccia 3000, non lo so, ok? E tutto questo lo pagherete non 1000, non 3000, non 2000, e neanche 1000 del corso e il resto regalato, ma 5,97, o due rate da 2,99, due rate mensili, ok? Volete fare l'apprendistato? Benissimo, a tutto questo, a Mbaradan, ci aggiungiamo un archivione gigante, attualmente 211 ore, 211, 211 ore di esercitazioni, in crescita perché vanno da ottobre 2019 al futuro, ecco, e io, figa, spero che ancora per un paio d'anni farò esercitazioni con i miei studenti, se non di più, ecco, quindi perfetto, quindi in crescita di esercitazioni, immaginate sotto 211 ore, eh? Già solo questo sarebbe ridicolo dire che vale 1000 euro, perché 5 euro all'ora? Cioè sì, io non ho 5 euro all'ora, cosa sono? Sono un accattone? Ecco, a certo punto. Non vale neanche quella roba lì? Neanche 1000, vi chiedo? Vi faccio uno scontro del 60%, solo 400 ore in più, quindi da 5,97 per 3.000 euro di materiali a 4.000 euro di materiali a 9,97. 60% di sconto sulla parte nuova. Volete anche il corso di sceneggiatura avanzato? Così avete veramente tutto l'insieme, da tonde potreste dirmi, se funziona veramente così che devi avere l'insieme per capire, è un po' come dire che non puoi capire niente prima di capire tutto, allora mi serve anche la parte di sceneggiatura, hai perfettamente ragione. Allora in quel caso abbiamo fatto 60% di sconto? Esageriamo, facciamo peggio, anche questo varrebbe 1000 euro, ma lo facciamo a 70% di sconto, ti chiedo soltanto 300 euro in più. 1297, non 4-5 mila euro quello che è, 1297, e addirittura il prezzo te lo ha zero, come? Ti do una cosa da 1000 euro chiedendotene 300 e ti do un'altra cosa che ne vale 300 assieme gratis, praticamente stiamo andando a zero, ok? Ma 1297 ottieni anche questa roba qui. Tanto approfittatene finché il prezzo è così basso perché, vi l'ho detto, quando finisco di fare tutte le lezioni in formato video, adesso ce ne sono un po' più della metà, ok? Di 41 lezioni ce ne sono un po' più della metà in formato video, sono 9-10 ore. Quando ho terminato non posso più darvelo al 70% di sconto. La scusa del 70% di sconto è che il corso è soltanto in forma scritta. Questa scusa già adesso non è più valida, ma io sto mantenendo lo sconto. Quando termina io lo sconto, se proprio riesco di grassa, ve lo farò del 40%. Non pagherete 300, pagherete 600 euro in super offerta per averlo, eh? Io ci ragionerei un attimo, ok signori? Perché l'aumento di il prezzo dovrà per forza avvenire quando non potrò più giustificare di darvelo a un'aggiunta così bassa, chiaro? Perfetto. Io vi do addirittura l'analisi. Ve l'ho detto, vi vado in pari, no? Vecchietta spiegata questa roba qui, da 300 euro, 1000 euro pagata 300, vi do un prodotto che ne vale 300 in più. Un'intera analisi da 6-8 ore di un romanzo a scelta di Vaporteppa. Abbiamo 7 opzioni, 4 già fatte, 2 che completo in queste settimane e una che è prevista che venga fatta a luglio, ok? Meridiano di Larve. Quella che volete, ve la diamo. Io vi consiglio, prendete una delle quattro, non so, Venezia Metal magari che è molto bella, anche le altre sono tutte belle, Venezia Metal mi è particolarmente caro anche come testo di studio. Prendete una di queste, boom! Così potete fare apprendistato anche su opere pubblicate, vedendo come ho ragionato, come ho fatto le cose, come funzionano. Stiega di scrittura, ma anche progettazione, dettagli, ragionamenti su certi dettaglini minimi di significato, ok signori? Perfetto. E tu potresti dirmi, ah, me ne vorrei due di analisi, come faccio? Stai calmo lì figliolo. Invece di pagare a rate, fai pagamento unico con bonifico bancario, in tutte e tre le opzioni eh, ti do un'analisi omaggio in più. Quindi tu puoi avere, sì, puoi avere veramente a 597 euro con bonifico il corso avanzato di scrittura più metodo travel, più risveglio dello scrittore, tre corsi in uno, più gruppo segreto, più esercitazioni da fare con me, non l'archivio però, esercitazioni da fare con me, più le ultime tre esercitazioni avvenute, eccetera, eccetera, più il buco delle anteprime, eccetera, 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 le migliori esercitazioni selezionate, 10 ore di roba, più le altre cose, tutte le cose che trovi in una pagina diventano una lista lunghissima e anche, semplicemente perché è pagato col bonifico, un'analisi del valore di 300 euro, 6-8 ore di materiale. E quindi sì, vuol dire che se voi fate il bonifico unico con il doppio apprendistato che includeva già un'analisi dentro, una più una fa due. Bello, eh? Quindi signori, ultima cosa e poi andate a vedere sul sello la pagina di vendita perché una volta che avete capito che non si può comprendere veramente un dettaglio di scrittura o di progettazione senza conoscere l'insieme, ora signori, la visione completa, la visione di insieme, avete capito che dovete averla, quindi andate a guardare la pagina e a valutare quale delle tre offerte scegliere. Prima di dirvi questo però ricordatevi che avete la garanzia soddisfacchio rimborsati i 60 giorni, signori, e che non è poco. Non dovete addurre nessuna giustificazione, non dovete fare niente, basta che entro 60 giorni dite voglio un rimborso. Sapete quante volte è successo? In sei anni praticamente, da giugno 2018, primo lancio del corso, ok? In sei anni? Si contano o sulle dita di una mano o leggermente sopra una mano, forse sono state sei o sette forse, io credo cinque al massimo. E sapete che in metà dei casi, dico metà perché io ricordo tre casi, o tutti quanti hanno chiesto un rimborso solo perché ero in difficoltà economica, nessuno ha mai detto che il corso, ecco uno ha detto il corso è meraviglioso ma mi aspettavo qualcosa di diverso, però gli piaceva un sacco, credo se aspettasse, se ho capito la spiegazione che aveva dato, un corso più di regolette semplici tipo fai questo, fai quello, fai questo, come se fosse una specie di istruzioni di editing. Mi ricordo che aveva spiegato sta roba e ci siamo detti sì, no veramente, se cercavi questo non... infatti ha detto il corso è bellissimo, è molto più grande di quello che pensavo, in me cercavo qualcos'altro e gli abbiamo detto guarda noi ste cose in questo formato non le abbiamo e non le mettiamo, noi insegniamo i principi, la teoria, facciamo fare esercitazioni, cioè insegniamo veramente come imparare, non è una lista di regolette, ecco. E quindi in quel caso appunto, poi non toglie che in realtà è tutto veramente super comprensibile, è un esercizio che fanno tipicamente i miei studenti e quella lista di regolette scriversela, cioè parte del modo in cui si impara nel mio corso è dirvi voi dovete segnarvi la lista delle cose che sbagliate, delle cose a tenere d'occhio, perché se quella lista ve la do io serve a poco, se ve la create voi crearvela è in sé parte dello studio, avete capito? Quindi era anche una persona che non aveva capito esattamente la filosofia di studio dietro, però insomma è stata rimborsata. Negli altri casi, tutti gli altri casi, questo sono sicuro, era proprio ho avuto momentane difficoltà economiche, non me la sento di sostenere questa spesa, per favore rimborsatevi, l'abbiamo fatto e lo ricordo bene in... o quattro. Vabbè, tre di questi casi, c'ho il dubbio su un quarto caso? Forse quattro addirittura. Queste persone che avevano la possibilità di tornare sull'offerta, no tre, avevano la possibilità di tornare su quest'offerta e di mantenersela congelata, quindi se avessero avuto nuova disponibilità economica, potevano di nuovo prendere la vecchia offerta, sicuramente più conveniente di quelle nuove, e risbloccarla? Lo hanno fatto. Gente che aveva già studiata, ha avuto il corso per due mesi, aveva già studiato, aveva già preso gli appunti, aveva già fatto, potenzialmente poteva riprendersi i soldi, tenersi gli appunti e, oh, la formazione ce l'aveva avuta, certo non poteva fare più esercizi con me nuovi e altre cose, però insomma, oh, 90% ce l'aveva avuto, eh, complessivamente, eppure hanno detto, no, adesso sono di nuovo un po' tranquillo coi soldi, voglio pagare di nuovo e sbloccatemi. Oh, se non è questo un attestato di quanto questi corsi cambiano la vita e piacciono al pubblico, signori, che altro vi posso dire? Quindi, signori, ultima possibilità, 60 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, e se poi avete un problema economico e chiedete il rimborso per quello, vi manteniamo per un po' di mesi l'opzione di tornare indietro e riottenere quello che avevate, eccetera, eccetera, fino a 15 maggio, fino a mercoledì 15 maggio ai 23.59, link sotto il video, signori, buono studio e alla prossima!